L'ultima gara del girone di qualificazione del gruppo A del quarto Memorial Ierasi di fronte il Barcellona e la Roma. Il Barcellona agli ordini di Silva Puig che si schiera con Bermejo, Marcos, Comas, Mogente, Rojas, Martinez, Sanchez, De Vega, Dominguez, Gomez, Lederman. Risponde da Roma con Pagliarini, Spaltro, Falbo, Zitelli, Barbarossa, Di Giacomo, Antonelli, Pezzella, Del Signore, Dorazzo e De Angelis. Allenatore, Mister Mattei arbitra la partita del Signore Bocchini della sezione di Roma 1. Passano soli 15 secondi dal fischio d'inizio ed il Barcellona è già in vantaggio. Vedete come la formazione di Silva Puig pressa alta la squadra giallorossa, arriva sul pallone, il più lesto di tutti para Dominguez che mette subito in rete il gol del vantaggio del Barcellona. avrebbe bisogno di una vittoria con una larghissima differenza a reti per poter ambire al passaggio del turno. La squadra di Silva Puig continua a macinare il gioco, qui il primo gol sbagliato di giornata da parte di Sanchez che si vibra bene al tiro ma poi spara a lato. La Roma prova a reagire ma il Barcellona è in partita e qui grande azione da parte di Marcos. Il pallone ancora per Sanchez che qui apre troppo il piatto destro con la sfera che termina a lato. La Roma però cerca di reagire e trova il gol del pareggio al ventitresimo del primo tempo. Autore della marcatura il numero 7 giallorosso Antonelli dopo un batti e ribatti scarica un gran destro che si infila sotto la traversa per il momentaneo 1-1. Siamo giunti al ventitresimo minuto nel corso della prima frazione di gioco. Il Barcellona si fa vedere qui con Martín Gomez, vedo la risposta di Pagliarini in calcio d'angolo. La Roma si affida a De Angelis, uno dei suoi migliori giocatori. Qui il tiro di sinistro è però centrale con l'estremo difensore Blaugran che blocca senza problemi. Nella ripresa Roma più viva soprattutto all'inizio del secondo tempo. Qui Antonelli, la grande parata da parte di Bermejo che ne predisce alla Roma di portarsi in vantaggio. Poi il Barcellona ha un'altra grandissima opportunità sempre con Sanchez. Qui grande risposta di Pagliarini che devia sul palo. La Roma si fa vedere qui con una cross dalla destra. Sul pallone arriva Dorazio di esterno destro. Pala però l'estremo difensore del Barcellona senza grandissimi problemi. Qui Antonelli a vedere sul destro il pallone del possibile 2-1. La Roma non realizza, lo fa invece il Barcellona con un gol d'autore. Pezzo di bravura da parte del numero 9 Blaugrana Portas che salta un paio di avversari. Con il destro a girare sul secondo palo trova l'angolino alla sinistra di Pagliarini che nell'occasione non può davvero nulla. Dopo 5 minuti termina il match con il Barcellona che nonostante l'eliminazione del torneo si toglie lo sfizio di battere la Roma. Formazione di Mister Mattei che invece si qualifica per la fase successiva ed in semifinale troverà l'Inter che ha battuto in giornata la Juventus. Grazie. 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 Grazie.